Pronti noi? Sì, di qua. Oh, che visi stai. Sì, di là. Sì. Vale. Dì là. Sì. Sì. Lasciala, lasciala, dai. Sì. Sì. Bravo. Questa è lì. 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 Ma che schifo il bomber. Il bomber ti ho chiamato. Questa è lì. Questa è lì, la città dicotta. Questa è un giro. Questa è lì. Assisinera un nonno nascito fascinatingi a via le jemandari. I rischio du preferred 2012 эти personeдre io vengi rispetto alle sacrifici di注 arthritis sviluppare una città di healthcare. Mana ho se le bambino. Grazie a tutti.